L'uomo faro del Pescara dopo l'infortunio di Palmiero a Cosenza c'era stato un ottimo impatto in partita con quell'assiste per Galano anche oggi hai dimostrato di poter tenere alla grande questo ruolo Sì, io lavoro sempre tutti i giorni per arrivare in partita al massimo anche se gioco dal primo minuto centro provo sempre e proverò di dare sempre il 100% e aiutare la squadra per portare i tre punti a casa oggi purtroppo abbiamo fatto una bella partita secondo me contro un avversario difficile e alla fine ci siamo riusciti a portare a casa un punto che ci dà fiducia perché in questa settimana è difficile abbiamo tre partite e non c'è tanto tempo di pensare alla partita di oggi noi già da domani iniziamo a lavorare per martedì Una domanda che non c'entra niente con il calcio Castanos o Castanos? Castanos Castanos All'intanto abbiamo definito questa cosa ti senti più un uomo davanti alla difesa quindi un metodista una mezzala o ancora come ai tempi del tuo prima esperienza a Pescara un trequartista se potessi scegliere tu No, quando sono arrivato a Pescara giocavo alla destra che è diverso di tutto alla destra no, non mi piace fare per niente E lo abbiamo escluso Poi o mediano o mezzala tocca a mister a decidere io mi trovo bene a tutti e due i ruoli però va bene tutto l'importante è che giochi no? E che non sia alla destra Certo, alla destra no, alla sinistra no numero 9 no Dopo dove vuoi? Sì Abbiamo chiarito tante cose Avevi detto qualche istante fa c'è poco tempo per pensare alla gara di oggi dobbiamo pensare da domani alla gara di Cittadella allora parliamo di questa partita saprai che il campo di Cittadella e di Cittadella non evocano bei ricordi per il Pescara nelle ultime due stagioni quattro partite e quattro sconfitte Va bene però il passato è passato il futuro è futuro noi vediamo il presente andiamo martedì per prenderci tre punti come andiamo tutte le partite e poi quello che riusciamo a fare lo facciamo e speriamo bene Oggi sono mancati un po' di spazi all'inizio per poter dimostrare la tua qualità Lentella vi ha tenuto in là No va bene oggi una squadra giocando col trequartista non lascia tanti spazi a un mediano perché è sempre a uomo e l'obiettivo oggi era far giocare le mezzali secondo me ci siamo riusciti in bene poi il secondo tempo li abbiamo fatti girare erano più stanchi e sono riuscito pure a prendere un po' di palloni Mancato un po' di concretezza in avanti per il Pescara avete tirato poche volte ma come ho detto prima Lentella è una squadra forte sanno fare entrambi le cose pure in attacco pure in difesa sono una squadra molto compatta e quando trovi le squadre così devi avere molta pazienza eppure è stato un bravo Memuciai a fare un gol sulla panela attiva e sono molto importanti su queste partite qua ragazzi il calcio non è chi fa più tiri vince perché Lentella ha fatto un tiro e un gol mezzo tiro e un gol allora noi abbiamo fatto il massimo alla fine un punto e un punto basta ho detto come prima martedì abbiamo un'altra e dobbiamo vincere chiudiamo con una battuta simpatica se Zauri ti dovesse dire vabbè fai l'esterno offensivo che gli dici no fermi tutti no giocherò però non devi aspettare tanto grazie grazie grazie